Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6 mercoledì 15 gennaio 2020. Andiamo subito a sfogliare le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro che nelle sue quattro edizioni ha la medesima apertura dedicata alla questione autostrade e al fronte viadotti. Ecco qui autostrada, pronti nuovi sequestri a 14 nel mirino dei PM finiscono anche le barriere tra Pescara e Chieti. Sotto la testata il progetto del nuovo governo, qualtieri meno tasse ai lavoratori dipendenti. Andiamo a centropagina, sempre caos viabilità legata alla situazione di autostrade e i cittadini protestano per lo smog. Da noi non si respira, dicono caos code, esplode la rabbia a Montesilvano e Città Sant'Angelo. E poi di spalla l'intervista per il libro Rivelazione di Remo Rapino, il cocce matte che vola verso il premio strega, una lingua parlata densa di dialettismi per la storia del Novecento. Il poeta lancianese Remo Rapino racconta il suo vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, libro in odore di strega. Poi una serie di richiami di cronaca. Pescara botte in strada a un volto l'aggressore delle ragazze. Nel 2017 mandò in ospedale una ragazza e tentò di aggredirne almeno altre due nella zona di Porta Nuova. Non conosceva nessuna delle vittime, l'aggressore seriale identificato come un trentenne pescarese che dovrà comparire davanti al giudice il 4 febbraio. È lo stesso giorno in cui Picchio, la giovane che poi a sporto denuncia. Poi ancora la fusione delle città, quindi il progetto Nuova Pescara, i tre sindaci ancora divisi, ancora ostacoli sulla via della nascita della Nuova Pescara. Montesivano e Sportore chiedono l'abrogazione della legge regionale che dà il là alla fusione. Masci replica il sindaco di Pescara, indietro non si torna. Per il calcio, Pescara strada in salita per Pettinari, mentre Vitturini va in Serie C, in particolare alla Feralpi Salò. Addio al campione, folla in lacrime a Montesivano in 300 per l'ultimo saluto al portiere di calcio a 5 Capuozzo, morto a 39 anni. Poi ancora altri richiami in taglio medio, aeroporto d'Abruzzo, il volo da Pescara a Bergamo, la regione incontra Ryanair. Credito in Abruzzo, le famiglie risparmiano di più, depositi per 20,7 miliardi. E poi in taglio basso il Buongiorno Abruzzo, il continente degli oggetti smarriti. Questo è il contenuto del Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Intanto con la foto notizia dedicata alla politica. Forza Italia lancia l'idea, primarie del centro-destra a Chieti. La corsa a sindaco entra nel vivo. E poi i richiami di cronaca. Siamo a Ortona, Weatherford licenzia 12 lavoratori. C'è preoccupazione per le sorti dei lavoratori della società Weatherford Mediterranea di Ortona, azienda che opera nel settore degli idrocarburi e che ha inviato alle segreterie regionali di Femca Cisle, Filctem CGL, Wiltec Wil, UGL Chimici e alle RSU una procedura di licenziamenti collettivi pari a 12 unità. Protestano i sindacati. E poi a Lanciano pochi anestesisti stop alla terapia contro il dolore, taglio delle sedute operatorie e delle attività ambulatoriali come la terapia del dolore e senza precedenti la crisi che investe il reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Renzetti. A Vasto Palazzo Rossetti in abbandono basta degrado. E poi ancora Unidav chiesti danni per un milione. A Chieti l'inchiesta sull'atteneo telematico con 10 indagati, fondazione d'annunzio parte civile. Andiamo sull'edizione terramana del centro, anche in questo caso l'apertura dedicata ad autostrade e la fotonotizia che ritrae le code appunto sulla A14. Vediamo i richiami di cronaca sul fronte Camera di Commercio Teramo. Tutti uniti contro la fusione con l'Aquila. Tutti o quasi uniti a difesa della Camera di Commercio. In una conferenza stampa ieri mattina erano schierati i rappresentanti di mezza provincia di Teramo a testimoniare l'appoggio alla battaglia annunciata dal presidente dell'ente camerale, Gloriano Lanciotti. A mancare erano i consiglieri e gli assessori regionali di centro-destra. Sempre a Teramo, per la cronaca, maltrattano i genitori in due a processo. Si tratta di due casi diversi che coinvolgono una donna di 50 anni e un uomo di 40 anni. Entrambi terramani. Le accuse parlano di brutali episodi di violenza. In Val Vibrata, a Martinsicuro, polo artigianale e commerciale nell'ex Fornace. E poi ancora la cronaca. Siamo a Roseto. Muore in auto davanti a moglie e figlio. Dramma appunto a Roseto, un uomo di 42 anni, stroncato da un malore mentre sta guidando. Andiamo ora sull'edizione aquilana del centro con la fotonotizia. Stazioni scistiche unite da un trenino a idrogeno, Vindoli, Magnola e Campo Felice. Ieri la visita di Marsiglio. E poi i richiami. Ecco qui, a L'Aquila, multe salate a 40 abusivi dei rifiuti. L'ASM, in collaborazione con i carabinieri forestali, hanno scoperto 40 illeciti amministrativi per altrettante persone che scaricavano rifiuti ingombranti nei cassonetti o in aree non idonee formando discariche. Per loro multe da 600 euro, sorpresi grazie agli appostamenti dei carabinieri e ASM e alle telecamere. E poi ancora, ad Avezzano, Guanciale apre il teatro agli studenti. L'attore marsicano Guanciale ha incontrato i docenti delle scuole per promuovere il teatro e in particolare la partecipazione dei ragazzi. Guanciale, per loro, ha organizzato gli incontri. E poi a Pesca Seroli, Orso Marsicano, nel 2019, nascite record. E poi torniamo alla cronaca. Ucciso per errore l'amico Neiguai, indagato per omicidio colposo, il giovane che ha sparato al finanziere Luca Pulsori. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. L'apertura, il MIT, via i blocchi dalla A14. Il Ministero dà parere favorevole al dissequestro del Cerrano. La parola alla Procura. Altre ambulanze intrappolate nel caos. La situazione diventa sempre più insostenibile. A tal proposito, a Roseto sulla Statale, muore incolonnato nel traffico. Vediamo sotto la testata. A L'Aquila, Vandali devastano le abitazioni degli sfollati del terremoto. A Chieti, Salassi, alle casse dell'università. La fondazione chiede un milione. E poi per il calcio di Serie B. Pescara, Pettinari o Melchiorri. Un bivio per il nuovo attacco. Sebastiani critica il mercato di gennaio. Crea solo disagi alle società. Il Delfino aderisce al progetto umanitario della Onlus antirazzista Gariuo. E poi di Spalla, ospedali e bagarre sui fondi non spesi. E poi ancora in Regione, PD e Movimento 5 Stelle, critici sulla mancanza di un piano di intervento. In taglio medio, intanto la fotonotizia. Capuozzo, l'ultimo applauso. Il funerale dell'ex calciatore, l'ex portiere della Pescara Calcio A5. Campione in Italia nel 2015. E poi ancora fusione delle camere di commercio. Teramo, ritirate la delibera. Per sindaco e denti locali bisogna aspettare il verdetto della consulta. E poi altri due richiami di cronaca. Violenza picchia il papà che è invalido figlia a giudizio. Tutto questo riguarda una cinquantenne di Giulianova accusata di aver preso a pugni il padre gravemente malato. Rapina nella Villa 4 alla Sbarra, all'Aquila. E poi in taglio basso, Parco, Orso Marsicano. Record di nascite. Prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo che apre così. Ricorso al TAR contro la fusione. Camera di commercio, operazione forse fuori tempo massimo. Febbo, battaglia di retroguardia. E poi in provincia, Pratiditivo in ritardo, montano le polemiche. La fotonotizia a centro pagina. Riapertura dei viadotti. L'uomo del MIT ha detto sì, ma a decidere sul Cerrano. E comunque il giudice. E poi una serie di richiami intorno alla fotonotizia. A Teramo, mercato delle poltrone in vista della verifica in Consiglio Comunale. Presa diretta. La linea 9 è un pasticcio per la Cona. E poi sempre a Teramo, regolarizzare la Teamo con una nuova gara a doppio oggetto. I pareri dei sindaci. C.D.A. Ruzzo, Stilicidio per Dalberto. E poi altri tre richiami in taglio basso. E siamo in provincia di Teramo. Battaglia legale, metanodotto della SNAM ad Alba e Martinsicuro. C'è il vincolo paesaggistico. Giulianova annunziata rassicurazioni sui lavori per il ponte, gli asfalti e la polivalente. Al Roseto degli Abruzzi la denuncia. Liquami sversati lungo il torrente Borsacchio. Lasciamo i quotidiani locali. Ora panoramica sulle principali testate nazionali. Partendo dal Corriere della Sera, chiaramente spazio alla vicenda del Papa Emerito Ratzinger, del libro dell'Arcivescovo Robert Sara. Ecco qui, Ratzinger, il libro è un caso. Benedetto XVI, via la mia firma dal volume sul celibato dei preti. Il Cardinale Sara. Lui sapeva, ci sono tre lettere. L'Arcivescovo, lo iudice, tentano di usare il Papa Emerito. E poi sotto la testata, Sanremo, il festival di Amadeus con gaff sulle donne. Andiamo di spalla, la crisi in Libia. Aftar conferma il no alla tregua, poi l'annuncio andrà a Berlino. Andiamo in taglio medio con la fotonotizia. L'aria è irrespirabile per i roghi. Malori tra i tennisti in Australia. Gli open e gli incendi. La cortina di fumo mette a rischio gli incontri. Poi ancora il giudice accusa il telefonino. Provoca il cancro, ma gli scienziati si dividono. Prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Immigrazione, cancellare Salvini. Intervista del Rio. Non ci basta modificare i decreti sicurezza. Serve una nuova legge. Zingaretti avanti con i 5 Stelle, ma nel PD parte la sfida per la segreteria. Movimento 5 Stelle di Battista promosso dentro Russo. Io sto con Di Maio. E poi il reportage da Erbil tra i soldati italiani nella base sottotiro. Nei bunker una panca di legno e sei bottiglie d'acqua. Il generale Fortezza. Restiamo per combattere l'Isis. E poi ancora a centro pagina nomine Rai nel caos. Schiaffo a Salini dal CDA. Bocciati. Quattro direttori. Andiamo avanti. Siamo sulla prima pagina del messaggero. L'apertura. Ratzinger evita lo strappo. Tolta la firma dal libro di Sarà che difendeva il celibato in polemica con Papa Francesco. La replica del cardinale. Sapeva tutto. Sradicata la vigna di Benedetto XVI a Castel Gandolfo. E poi sotto la testata Sanremo 70 da Lady Ronaldo a Bellucci e Leotta. Le dieci madrine di Amadeus. E poi per lo sport avanti anche l'Inter. Lazio poker di Coppa. Ai quarti il Napoli. Roma allo scambio. Spinazzola politano. E poi andiamo in taglio medio. Libia. Il generale alla conferenza di Berlino. Haftar rinvia Erdogan Lobbacchetta. Avanza l'ipotesi dei militari italiani. E poi ancora la fotonotizia. Anche in questo caso dedicata a quanto sta accadendo agli Open di Australia. Il grande rogo piega le stelle del tennis. Match rinviati per i miasmi dell'incendio. E poi ancora smog. Roma rischia il blocco per sei giorni. Gli esperti inutile. Stop oggi e domani. Forse fino a 9. Il presidente dell'ACI. Problema auto vecchie. Non i diesel Euro 6. E poi la prima pagina del tempo. Il caso Ratzinger diventa un giallo. Gran papocchio. Benedetto disconosce il libro anti-bergoglio. Levate la mia firma. Ma Sara dice sapeva tutto. Alla fine vince la ragione di Stato Pontificio. Ma resta la confusione dei due papi in pubblico. Poi nel tempo di Oscio. Virginia ci ha preso gusto. Diesel ancora K.O. Non possiamo farci dare l'appendino. Si chiede il tempo. E poi ancora. Sempre sulla prima pagina del tempo. Dal processo a Salvini. Scappa il PD. Andiamo ora con la prima pagina della stampa. Ecco l'apertura. Autostrade. Il governo ha deciso. Sarà revoca. Iniziativa al Consiglio dei Ministri di venerdì. I dubbi dei tecnici del Tesoro. Ira dei Benetton. Siamo sotto attacco. Gli azionisti pronti a ricorrere all'Unione Europea. Bruxelles vara il Green Deal. Gualtieri. Nuove regole per gli aiuti di Stato. E poi a centro pagina questa ampia fotonotizia. Super Sanremo con Amadeus. Dieci ragazze. Un Oscar. Ferro. Fiorello e Benigni. Troppe sul palco ma poche in gara nell'editoriale di Marinella Venegoni. Andiamo avanti sulla prima pagina del manifesto. Questa è l'apertura. Deserto russo. La mancata firma sul cessato il fuoco del generale Haftar delude anche Putin e fa infuriare Erdogan. Se non si ferma gli daremo una lezione, forse il leader della Cirenaica alla conferenza di Berlino il 19. L'Italia alla ricerca di un ruolo non conflittuale nella Libia senza pace. E poi andiamo a vedere sotto la testata. fronte partito democratico Zingaretti. Il PD è unito ma non sui 5 stelle. La prima pagina del fatto quotidiano. Scandalo Bibiano. Tutte le carte. Ai bambini niente regali dei genitori. Gli assistenti sociali in chat. Indagini chiuse. 107 capi di accusa. Prassi di violenze psicologiche sui bimbi in affido. Foti ha portato il video che lo incastra. Sindaco consapevole del sistema illecito. E poi in taglio basso. Di Battista pace con Di Maio. Via autostrade e ripartiamo. Dopo la rottura su Paragoni. Due big si risentono. Con Luigi ci sentiamo regolarmente. Spiega chi ha parlato con l'ex deputato dei 5 stelle. Obiettivo un asse per dare autonomia al movimento. E dall'associazione Russo viene confermato il suo ruolo. Poi in taglio basso. Preti sposati. Ratzinger usato dagli antipapa. E il ruolo di Georg. Andiamo avanti. Vediamo la prima pagina della verità. Ecco l'apertura. Scontro finale in Vaticano. Vogliono imbavagliare Ratzinger. Scoppia un'incredibile pretestuosa canea per la sua firma sul libro con il cardinale Sara. Tutto allo scopo di oscurare la sostanza della questione Benedetto XVI. E contro l'abolizione del celibato dei preti. E di porre limiti alla facoltà di esprimersi del Papa Emerito. In taglio medio la fotonotizia. Intervista con Silvio Berlusconi. Giallorossi incapaci. Abbiamo regalato la Libia ai turchi. Ora parliamo con Putin. E poi in taglio medio il governo cala le braghe. Sbarchia go go. Porti aperti per le ONG. La Morgese vuol ampliare le categorie dei permessi umanitari. Maggioranza sconfitta sul caso Gregoretti. Dovrà dire prima delle elezioni in Emilia. Se vuol far processare Salvini. Andiamo a chiudere con la prima pagina del quotidiano L'Avvenire. Accordo in verde. Via libera del Parlamento UE al pieno da mille miliardi di investimenti. Interventi per la sostenibilità di ILVA. Mobilizzazione ambientalista a Davos. Passi avanti del progetto Green New Deal della Commissione. Gentiloni, fondi per l'Italia. E poi siamo alla fotonotizia. Salvate Gibellina e le sue opere d'arte. Dopo 52 anni appello dal Belice per la ricostruzione dopo il sisma. E poi sempre in taglio medio. Benedetto sul celibato non firmo il libro di Sara. Mai autorizzata la posizione. Ne condivise premessa e conclusioni. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo su quelli locali. Siamo su pagina 2 del centro. Argomento ovviamente quello della viabilità e dello stato dei viadotti sulle autostrade. Ecco qui viadotti a 14 pronti nuovi sequestri penali. Nel mirino dei PM di Avellino finiscono anche le barriere tra Pescara e Chieti. Sì del Mittal. Passaggio dei tir sul Cerrano. Ieri ancora caos. L'Aspi rimborsa. E poi i dati dell'Arta. Peggiora la qualità dell'aria. A Silvi aumentano gli inquinanti. E poi ancora. In basso leggiamo il chiarimento con la compagnia irlandese. Volo per Bergamo. Febbo incontra il manager Rainer. Comunque sulla vicenda dei viadotti vediamo il servizio del Tg6. Transito dei mezzi pesanti purché vengano rispettati l'obbligo di interdistanza non inferiore a 100 metri e il limite di velocità 60 km orari nonché il divieto di sorpasso. Il Ministero dei Trasporti ha dato parere favorevole al ripristino della circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell'autostrada 14. Questo è il contenuto della relazione dell'ufficio ispettivo territoriale del Ministero al concessionario Autostrade per l'Italia che ne ha fatto richiesta. La riapertura del ponte in ogni caso dovrà essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, recita una nota del Ministero. Dalle verifiche svolte dall'Istituto Nazionale delle Saldature della Modellazione della Frana, eseguita dall'Università di Roma, la Sapienza, il MIT, prosegue la nota, ritiene necessario un sistema di monitoraggio dinamico della frana sulle parti sensibili delle fondazioni e delle sottofondazioni del viadotto in modo continuativo attraverso sensori e rilievi topografici dei pali maggiormente sollecitati. Autostrade per l'Italia, prosegue ancora la nota del Ministero, dovrà poi definire un piano adeguato di gestione delle emergenze da attivare oltre determinate soglie di allerta essenziali per l'uso in sicurezza dell'infrastruttura che se superate comporteranno nuovamente la chiusura delle viadotto. Dunque a breve l'intera dorsale adriatica autostradale potrebbe tornare a respirare e soprattutto potrebbe tornare a respirare la città di Silvi che intanto conta i danni. Numerosi sono infatti gli interventi del Comune sui pozzetti della Statale 16 danneggiati dal passaggio di migliaia e migliaia di mezzi pesanti dal 18 di dicembre ad oggi. E proseguiamo, siamo su pagina 3, stazioni sciistiche unite da un trenino a idrogeno, progetto da 16 milioni di euro per collegare Ovindoli, Magnola e Campo Felice. Marsiglio, i soldi vanno spesi subito, investiremo anche sulla promozione turistica. E poi in basso il salvataggio riuscito, i due grifoni tornano a volare curati dai carabinieri e rimessi in libertà sul monte Velino. Pagina Abruzzo, si parla di credito e microcredito. Abruzzo aumentano i risparmi delle famiglie nelle banche depositi per 20,7 miliardi di euro più 227 milioni nel 2019, ma diminuiscono di 73 milioni i prestiti per le piccole e medie imprese. In basso per la politica il carroccio punta sulla consulta dei giovani, proposta di legge regionale della Lega. De Santis sarà la cerniera tra movimenti e amministratori. Andiamo ora sulle pagine di Pescara. La cronaca è stato risolto. Il giallo di Porta Nuova, ragazze prese a pugni in strada. L'aggressore scoperto dopo tre anni. L'uomo, un trentenne pescarese, è stato riconosciuto dalle vittime con un confronto all'americana. Il 4 febbraio comparirà davanti al giudice accusato di rapina, violenza privata e lesioni personali. Ancora la fusione tra le città e siamo al progetto della nuova Pescara. Ancora ostacoli. Masci indietro non si torna. Montesilvano e Spoltore chiedono di abrogare la legge costitutiva del comune che dovrà nascere a sostegno della proposta, lo studio dei bilanci. Non vogliamo accollarci i debiti del capoluogo. Ecco qui il fronte del SIA, la nuova Pescara. Con le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, c'è stato un voto referendario in cui i cittadini si sono espressi. Noi amministratori abbiamo il dovere di applicare la legge. Poi il fronte del NO con i sindaci di Montesilvano e Spoltore, De Martinis e Di Lorito. I dubbi che ci sono sempre stati, non sono mai stati fugati. Vogliamo spiegare ai cittadini gli effetti negativi che si creeranno. Andiamo avanti con la prossima pagina. Ecco qui l'addio al campione. Dolore e lacrime. 300 persone per l'ultimo saluto a Capozzo. Familiari, amici, avversari e compagni di squadra piangono. Il giocatore di calcio a 5 è morto a 39 anni. Stracolma, la chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano. La madre abbraccia a lungo il feretro. Andiamo avanti. Il piano antifreddo. Il dormitorio è pieno ma c'è chi resta fuori. Occupati i 70 posti della struttura di Via Lago Sant'Angelo. Alcuni senza tetto preferiscono spiaggia, strada o stazione. E poi in taglio medio, disabili, prigionieri in case senza ascensori. Un'anziana e un ragazzo escono dagli alloggi Ater portati in spalla dai familiari. La denuncia del consigliere comunale Pignoli. Andiamo avanti. La tragedia nella clinica. Siamo a Città Sant'Angelo. Morti nell'incendio. Gli avvocati. Villa Serena è responsabile. Parlano i legali delle famiglie e delle vittime. Dopo il deposito della perizia dei vigili del fuoco sul rogo. Non si possono non rilevare omissioni o negligenze. Chiederemo un incontro con il magistrato. In taglio medio, vertice con i sindaci sulla Popolare di Bari. I sindacati chiedono tutela per i lavoratori delle filiali e rassicurazione sul credito alle piccole imprese. E poi la pagina di Montesilvano. Anche in questo caso si torna a parlare di inquinamento e di caos viabilità. Smog e code. Cittadini esasperati. Così la situazione è invivibile. I mezzi pesanti vengono deviati sulla statale. Hanno messo in ginocchio residenti e commercianti tempi di percorrenza dilatati. A Montesilvano e Città Sant'Angelo. L'aria è diventata irrespirabile. Poi ci sono i vari punti di vista. Piero Ricciutelli. I clienti fanno fatica a essere puntuali e si accavallano. Ovviamente sono i punti di vista di diversi commercianti e negozianti. Gabriele Evangelista. Disagi dal punto di vista del traffico e dell'inquinamento. Un tassista. Mario Viola. Situazione invivibile. Tempi allungati a discapito dei clienti. Poi ovviamente i cittadini residenti. Serenella Franchi. Le macchine sono incolonnate già dal centro. Lo smog preoccupa. E poi l'ex comandante Sergio Agostinone. Servono segnali per indicare il nuovo ponte da viale. Aldo Moro. Proseguiamo. Siamo a Spoltore. Quel rapinatore poteva uccidermi. Torna la paura a Spoltore. Il dramma della tabaccaia aggredita sotto casa per 20 euro. Mi ha puntato il piede sul petto e mi ha buttato per terra. E poi ancora torniamo a Montesilvano con i progetti del comune. L'assessore. Via Roma resta pedonale. Nuovi locali per lanciare la movida. Le parole dell'assessore Damiana Rossi. La volontà del comune è pedonalizzare per valorizzare il centro. Si cercano imprenditori. Ci sono spazi da affittare per chi vuole scommettere sulla città. Poi ancora siamo a Francavilla al mare. Un parcheggio da 36 posti al casello di Francavilla. Previsti lampioni e segnaletica nella nuova area che eviterà la sosta selvaggia. Dopo l'ok del Consiglio Comunale in primavera si darà via libera al bando. Proseguiamo e siamo a Colle Corvino. Cadavere nel fiume. Confronto con i capelli dell'anziano sparito. La Procura ha disposto gli accertamenti sul DNA sui resti ritrovati il 6 gennaio nel fino. L'obiettivo è fugare ogni dubbio e verificare se si tratti dell'83enne scomparso a ottobre. A Bisenti. Poi ancora in taglio basso la cooperativa Cogextre compie 40 anni. Domani la festa del Centro di Educazione Ambientale con WWF e responsabili delle aree protette. Proseguiamo. Andiamo ora sulle pagine di Chieti. Spazio alla politica in vista delle prossime elezioni comunali. con Forza Italia che lancia l'idea primarie del centrodestra. Ecco il piano di Mauro Febbo per trovare un'alternativa di Stefano della Lega. Venerdì riunione decisiva. Di Giullo anche noi abbiamo personalità capace. Qui abbiamo dei volti con Fabrizio Di Stefano lanciato da Salvini in persona che è già al lavoro. Poi Maurizio Formichetti, il funzionario sarebbe corteggiato dallo staff di Febbo. Poi Paolo De Cesare, l'imprenditore che vuole creare un polo con cinque liste. Poi l'attuale assessore della giunta di Primio, Carla Di Biase. L'assessore e altri due amministratori sono la triade di Fratelli d'Italia. E poi ancora andiamo avanti. La vicenda dell'Ateneo Telematico, Unidav chiesti danni per un milione. Prima udienza a Chieti. La fondazione d'annunzio e l'attuale gestione si costituiscono parte civile. In dieci rischiano di finire sotto processo. E poi ancora un taglio medio. Weatherford annuncia 12 licenziamenti. A Ortona c'è preoccupazione per i lavoratori della società degli idrocarburi. I sindacati daremo battaglia. Andiamo avanti. Siamo sulle pagine di Teramo con la vicenda della fusione. Tra le camere di commercio di Teramo e l'Aquila. Tutti fanno quadrato contro la fusione. Si va verso il ricorso. Appoggiano la battaglia comune, provincia, imprese e consiglieri regionali di PD e Movimento 5 Stelle. Mancano solo quelli di centrodestra. Poi le parole del sindaco di Teramo, Dalberto. La regione ci ha ignorato e ha insultato un intero territorio in grave difficoltà. Siamo qui in provincia di Teramo. Un progetto per la pedemontana in alternativa alla Statale 16. Ieri vertice ad altri con la partecipazione dei comuni di Silvi, Città Sant'Angelo, Montefino e Delice. Ora sarà proposto un protocollo di intesa a provincia e a regione per creare un collegamento collinare. E poi ancora, tir in bocca. La 14 contro mano a Pineto. Un camion ungherese fermato sulla rampa del casello. In quel momento non c'erano code. Andiamo avanti. Siamo sempre sulle pagine del centro, ma all'Aquila. Ecco qui, possiamo andare sulla pagina. Rifiuti, multe da 600 euro a 40 abusivi. Gli illeciti scoperti con appostamenti e telecamere gettavano nei cassonetti pneumatici, lavatrici, computer e mobili. L'operazione, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente guidato da Taranta, nel centro di raccolta di Bazzano, i materiali ingombranti si possono conferire gratuitamente. E poi ancora, in taglio medio, rifiuti. Centro di riciclo da 460 mila euro. Ad Avezzano sorgerà nell'area nord del secondo in città. Realizzare la struttura sarà la Tecneco. E poi, in taglio basso, Orso Marsicano, nascite record nel 2019. A Pescassero, i 16 cuccioli contati nell'area protetta. Il miglior risultato nei 14 anni di monitoraggio. E poi ancora la tragedia in Calabria. Domani l'addio a Camarda, ucciso per errore. L'amico finisce nei guai sotto inchiesta per l'omicidio colposo. Il giovane che ha esploso i colpi mortali. Il dolore sui social ci mancherà. E poi, in taglio medio, l'attore Lino Guanciale apre il teatro agli studenti marsicani. L'attore è impegnato nel progetto per i ragazzi. Ci fermiamo con la prima parte di mattino 6, spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità. E poi ci ritroviamo con il messaggero, la città e altri servizi da vedere. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che andiamo a iniziare con le pagine del messaggero Abruzzo. Ovviamente si torna a parlare di viabilità e di caos per la vicenda autostrade. A 14 il ministero IPM, il viadotto, è sicuro. Revocate il sequestro del Cerrano. Si tratta del ponte che provoca il caos. Resta il problema delle altre barriere che per la procura non vanno rimosse. Intanto il senatore Luciano D'Alfonso chiede in aula interventi per una sistemazione definitiva del problema. E poi in taglio basso la vicenda della popolare di Bari. Masci guida i sindaci. Non penalizzate l'Abruzzo. I primi cittadini contro i possibili tagli di sportelli e personale legati a un pieno di risanamento. Federe consumatori partecivili in un eventuale processo agli amministratori dell'istituto. Proseguiamo. Siamo sulle pagine di Pescara. Tari. Prime tre rate come l'anno scorso. Poi con guaglio finale. La proposta verrà presentata, aggiunta e ad retica risorse, in attesa di fare chiarezza sul calcolo delle tariffe del 2020. In Commissione Finanze il Presidente Salvatore Di Pino ha riscontrato l'ampia convergenza dei consiglieri. Il punto debole riguarda la soluzione unica a metà giugno. Si spera nell'aiuto di Anci e Arera. Poi ancora alle edicole i certificati dell'anagrafe. Proposta avviata ma strada in salita. Sì del Consiglio Comunale dopo l'approvazione del bilancio. Sola gli ostacoli si superano. E poi in taglio basso casette d'acqua e borracce. Parte il piano plastic free. L'assessore Isabella Del Trecco lancia la campagna con le fontanelle. Fra 40 giorni il bando. Altri enti coinvolti. Andiamo avanti. Rigopiano denuncia sul depistaggio. Gianluca Tanda dice si tratta di una mia iniziativa personale. dietro la tragedia non solo burocrazia ma errori e reati. Nell'inchiesta le valutazioni di un maresciallo del Noe opposte a quelle dei forestali. Caos nell'emergenza. E si alza la tensione a tre giorni dal terzo anniversario. Invitato anche il Premier Conte. A tal proposito vediamo il servizio del TG6. Sabato 18 gennaio sarà il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. Sono passati già tre anni da quel maledetto mercoledì 18 gennaio 2017 quando una valanga si staccò dal Monte Siella travolgendo in pieno l'hotel Resort Gran Sasso mettendo fine alla vita e ai sogni di 29 persone in una giornata che la nostra regione scossa nella terra e nell'anima ricorderà per sempre. Si è parlato tanto di Rigopiano in questi anni soprattutto nelle aule di tribunale dove tra rabbia, archiviazioni e cambi di scenari continui i familiari attendono ancora l'avvio di un processo che a questo punto si annuncia sempre più lungo e complicato. Ma sabato è la giornata del ricordo per questo come nei due anni precedenti il comitato vittime di Rigopiano costituitosi dopo il tragico accadimento e facendo leva sulla volontà dei familiari di ottenere giustizia ha organizzato una giornata della memoria che inizierà alle ore 10 quando le stesse famiglie si riuniranno presso il totem, simbolo dell'hotel e dove dovrebbe sorgere il giardino della memoria per un momento di preghiera e di benedizione. Alle ore 11 poi la commemorazione si sposterà presso Contrada Mirri Bivio che porta a Rigopiano da dove partirà una fiaccolata che lentamente arriverà presso la chiesa San Nicola Vescovo di Farindola per la Santa Messa celebrata proprio dal parroco del comune Vestino Don Luca di Domizio. La giornata del ricordo nel pomeriggio si sposterà a Penne presso il capiente palazzetto dello sport nominato negli anni ambasciata della rinascita il quale ospiterà personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che sin dal primo momento hanno manifestato la loro vicinanza ai familiari delle vittime come i presentatori dello spettacolo Pino Insegno e Federico Perrotta alle 16.49 orario simbolo della tragedia il momento più toccante con la discesa del poster con i volti delle 29 vittime. Alla manifestazione parteciperà come annunciato ieri dallo stesso comitato anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede sempre attento alle problematiche dei familiari delle vittime delle tragedie del nostro paese e ai vari comitati nonché al comitato nazionale noi non dimentichiamo lo stesso comitato attende in queste ore una risposta anche sulla presenza del premier Giuseppe Conte per avere notizie più certe per quanto riguarda i 10 milioni di euro annunciati proprio un anno fa da Matteo Salvini proseguiamo sempre sul messaggero cure dentali per i poveri il servizio dal 4 febbraio intesa tra l'unità di odontoiatria della ASL e l'università d'annunzio per l'assistenza andiamo avanti ultimo applauso per Capuozzo chiesa gremita a Montesivano per l'addio al campione di calcio a 5 la mamma colta da malore famiglia straziata dirigenti, tifosi ed ex compagni di squadra in lacrime commossi gli amici da Napoli buon viaggio Antonio la sua foto posata tra i fiori sul feretro Don Lorenzo era un campione nello sport e nella vita e poi ancora in taglio medio sempre a Montesivano le parole del sindaco De Martinis deleghe ai consiglieri il sindaco smentisce il rimpasto solo alcuni ritocchi agli incarichi della giunta andiamo avanti e siamo alle pagine dell'Aquila dimensionamento scolastico scontro sulla graduatoria unica vertice tra sindaco e ufficio provinciale per la situazione del personale delle medie i docenti annunciano la linea dura possibili scioperi e ritiro delle tessere ancora battaglia sulla riorganizzazione varata dall'amministrazione comunale tra le polemiche il documento ha già ottenuto il via libera della regione nelle scorse settimane poi ancora fiducia a Biondi il sindaco dell'Aquila la crisi rientra i tecnici con Fratelli d'Italia andiamo avanti niente fondi e servizi Gran Sasso in agonia la neve scarseggia e con essa le presenze sulle piste il sindaco i 40 milioni non ci sono servono piani seri albergo fermo al palo per le lungaggini sulla progettazione anche sull'innevamento programmato non arrivano decisioni avanti ancora siamo in Marsica CAM c'è chi si oppone al concordato acque agitate al consorzio banche e creditori contestano l'operazione con argomenti di carattere legale ed economico resta comunque in piedi il procedimento le contestazioni del commissario e del consigliere regionale Angelo Sante ora siamo alle pagine di Chieti con il caso Unidav la fondazione chiede danni per un milione avanzato il rinvio a giudizio ma l'udienza è slittata per un legittimo impedimento anche all'ateneo telematico e parte civile le casse furono usate come un bancomat dal peculato all'abuso d'ufficio al riciclaggio le accuse della procura e poi di spalla l'assessore comunale di Chieti Viola piscina riaperta in tempi rapidi proseguiamo siamo a Lanciano commercio la guerra dei Dehor gazebo esterni ombrelloni e tavoli Rocco Finardi di Ascom torna a criticare le rigidità Accordo Capestro ci penalizza il sindaco Pupillo l'intesa è stata approvata dopo diverse riunioni dobbiamo tutelare la bellezza del centro storico e poi ancora a Vasto pista ciclabile Sosta e scale mobili obiettivi del consorzio Vivere Vasto rinnovati il direttivo e il presidente dell'associazione che si occupa di turismo e sviluppo del territorio e ora siamo alle pagine di Teramo del messaggero Fusione Camere di Commercio il sindaco per noi è un insulto il Teramano si ribella l'operazione avallata dalla regione aumentano i dubbi il presidente Lanciotti faremo ricorso al Tar per restare autonomi territorio per una volta unito nel chiedere più attenzione il decreto Marsiglio non tiene conto della nostra fragilità il servizio del TG6 La Camera di Commercio di Teramo resisterà con tutte le sue forze al decreto della regione Abruzzo che su diffida della Camera Aquilana impone l'immediata fusione tra i due enti appena il documento sarà notificato la Camera di Commercio Teramana presenterà ricorso al Tar una vicenda che lascia abbassiti un po' tutti le istituzioni Comune e provincia di Teramo associazioni di categoria ordini professionali del territorio in fondo sulla quasi scontata incostituzionalità delle fusioni l'8 aprile si esprimerà la Corte Costituzionale bastava dunque ritardare il provvedimento di solo tre mesi come hanno fatto in altre dieci regioni italiane per avere la conferma su come agire ma perché Teramo firmò consensualmente nel 2016 la fusione con l'Aquila? Noi abbiamo firmato questa è una cosa da chiarire quando ancora la legge non era stata approvata stavano discutendo la Camera una proposta una bozza di legge in cui si prevedeva si ipotizzava la chiusura delle Camere secondarie su territori delle filiali noi per salvaguardare questa Camera a Teramo abbiamo deciso di fare questo accordo facendo rimanere le due Camere l'impianto normativo poi è diciamo nato in maniera diversa sono partiti i ricorsi e a quel punto noi ci siamo agganciati a quel ricorso perché riteniamo che sia giusto rimanere sul territorio senza e qui è bello chiarirlo senza che allora ci fosse questa legge ancora imminente sicuramente Teramo non avrebbe fatto la fusione un forte sostegno al Presidente Lanciotti e alle iniziative intraprese è stato espresso dal Sindaco di Teramo Gianguido d'Alberto e dalla provincia di Teramo rappresentata dal Vice Presidente Alessandro Rechiuti insieme ai consiglieri regionali teramani Pepe e Cipolletti tutti d'accordo nel ritenere l'atto di forza dell'Aquila e della Regione Abruzzo un grave insulto al territorio e alle sue forze imprenditoriali sempre le pagine di Teramo sul messaggero per la cronaca botte al padre invalido figlia rinviata a giudizio e poi ancora l'operazione di indrangheta di alcuni giorni fa che ha coinvolto anche l'ex comandante provinciale di Teramo Naselli ebbene Naselli al riesame sono innocente scarceratemi ora a Giulianova le parole del sindaco Ivan Costantini Costantini l'annunziata rinascerà la riunione del sindaco con il comitato di quartiere promessi interventi sul verde sul ponte del Tordino verranno stanziati 470 mila euro per il piano asfalti i lavori partiranno dal rifacimento di via di Vittorio e poi in taglio basso poesia Marcelli vince il premio Quasimodo il prestigioso riconoscimento assegnato per l'opera prima il verso libero li ha stanati tutti e poi sempre in Val Vibrata Green Economy per 12 comuni dal turismo alla cultura al via il progetto per rilanciare l'area di crisi complessa lasciamo il messaggero andiamo ora sulle pagine della città ecco qui partiamo da pagina 3 pagina Abruzzo il credito è un miraggio per le piccole imprese a settembre i finanziamenti hanno subito una contrazione di 73 milioni rispetto ai 12 mesi precedenti la diminuzione è in aperta contro tendenza sia rispetto al credito alle imprese medio-grandi per cui è cresciuto di 85 milioni e siamo ora a Teramo ricorso al Tar contro la fusione camerale abbiamo appena visto il servizio per fermare regione e ministero il presidente Lanciotti ricorre alle vie legali tre anni dopo la fusione volontaria Marcozzi ricorda che la fusione tra Teramo e l'Aquila era previa intesa e l'intesa sulla fusione c'è stata nell'autunno 2016 andiamo avanti gara a doppio oggetto per regolarizzare Team il sindaco d'Alberto avvia la procedura per individuare il socio privato e affidare i servizi entro un anno vediamo il servizio il comune di Teramo dà il via all'iter per indire la gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio privato della Teramo Ambiente e regolarizzare il contratto di appalto sulla raccolta dei rifiuti urbani il sindaco d'Alberto annuncia anche la volontà di riscrivere un nuovo statuto per la partecipata municipale dove il controllo dovrà essere essenzialmente pubblico altro importante obiettivo del primo cittadino sarà quello di continuare nella politica di riduzione dei costi nella Team per far abbassare sempre di più le tasse sui rifiuti che affliggono i cittadini teramani un passaggio importante in cui abbiamo messo un punto dopo la chiusura della procedura di evidenza pubblica fallimentare di Venezia che non ha la stessa valenza di un'evidenza pubblica per l'ingresso di un socio privato per il servizio di igiene urbana abbiamo fatto partire il percorso quindi una gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio privato operativo di Terramambiente e contestualmente per l'affidamento del servizio di igiene urbana e degli altri servizi che al momento sono oggetto di valutazione da parte degli uffici partire dai cimiteri che scadono nel 2021 e gli altri servizi che attualmente sono gestiti da Terramambiente è un passaggio fondamentale perché mettiamo un punto dopo 9 anni di gestione precaria utilizzo questo eufemismo di Terramambiente una gestione tutta politica al servizio della politica e non dei cittadini che ha portato ad un incremento dei costi ad una situazione in cui l'affidamento è scaduto una gara andata deserta non abbiamo ancora il contratto quindi la regolarizzazione è la priorità quindi rendere la Team rimettere la Team in carreggiata ovviamente in un percorso rispetto al quale dovrà continuare l'azione di riduzione dei costi e di ottimizzazione del servizio noi lo abbiamo già avviato in questo periodo in questa fase dopo 9 anni siamo riusciti a ridurre del 10% la Tari per le famiglie un risultato straordinario inaspettato ma dettato da una linea che è quella di abbattere i costi fissi di abbattere i costi superflui di risurre i costi della politica è la stessa linea che stiamo adottando per tutte le partecipate devono essere società al servizio dei cittadini e non della politica proseguiamo sulla città pagina 9 CDA Ruzzo per D'Alberto e uno stilicidio altri tre sindaci soci dichiarano l'appoggio incondizionato al presidente Cognitti e al suo vice Grotta e poi ancora pagina 10 Italia viva sconquassa gli equilibri politici nel consiglio comunale di ieri tra i banchi si è discusso solo di chi saranno i prossimi a passare coi Renziani e poi ancora la nuova linea 9 è un pasticcio per la CONA i tagli alle corse decisi dal comune per istituirla stanno creando notevoli disservizi alle linee 1 e 1 sbarrato pagina 17 Prati di Tivo impianti da aprire entro sabato prossimo la richiesta della Casa dei Comuni che attacca il presidente Diego Di Bonaventura sui ritardi il danno i consiglieri del centro-sinistra chiedono di agire al più presto per evitare un danno di immagine per il comprensorio e gli operatori e poi l'attacco di Manola Di Pasquale il presidente del PD critica la giunta Marsilio per essersi presa i meriti sugli interventi per la viabilità siamo in Val Vibrata vincolo paesaggistico sul tracciato SNAM Alba e Martinsicuro cittadini perplessi sul progetto del metanodotto il comitato si rivolge ad un avvocato e poi ancora interventi su ponte asfalti e polivalente le rassicurazioni dell'amministrazione comunale ovviamente di Giulianova durante l'incontro con il quartiere dell'Annunziata durante l'assemblea è stato lanciato l'allarme per la possibile chiusura del ponte ciclabile per questioni di sicurezza e poi ancora siamo a Roseto liquami riversati lungo il torrente Borsacchio la segnalazione delle guide della riserva sul posto anche l'arta per effettuare campionamenti la vicenda è venuta alla luce anche grazie alla pulizia degli argini effettuate nelle scorse settimane proseguiamo e siamo alla pagina dello sport apriamo dunque la parentesi con cui chiudiamo ovviamente mattino 6 lo sport sulla città obiettivo tornare a blindare il Bonolis con la regina caduta in imbattibilità con il Catania solo un pari ma lo stadio di casa era un fortino chiaramente per il Teramo che si rivolge che volge lo sguardo alla prossima gara contro l'Avellino di domenica prossima ore 17.30 sarà assente Viero torna Piacentini il centrocampista è squalificato e sarà sostituito da Arrigoni nel ruolo di playmaker in difesa soprano Cristini e Piacentini si giocheranno le due maglie da titolare appunto contro l'Avellino andiamo a vedere ora le testate nazionali sportive prima di chiudere con lo sport di centro e messaggero ecco qui il Corriere dello Sport l'apertura peraltro sono abbastanza simili le aperture di Gazzetta e Corriere il segno sempre lui il riferimento è a Romelu Lukaku che ieri è andato in gol due volte nella gara vinta in Coppa Italia dall'Inter 4-1 sul Cagliari Inter che vola ai quarti e poi ancora sotto la testata le parole di Roberto Baggio Nicolò ovviamente Zagnolo ce la puoi fare il divino record man di recupero da un intervento al crociato 77 giorni nel 2002 conta la volontà di Zagnolo io avevo 35 anni e poi le parole del professor Mariani già pronto per giugno deciderà Mancini e poi ancora sul fronte mercato Politano torna alla Roma Spinazzola da Conte e poi sul fronte altre partite Napoli-Lazio sarà una sfida da brividi e un accoppiamento per i quarti di Coppa Italia e poi ancora in taglio basso il Barcellona a Setien la scossa d'identità e poi Tennis-Caos in Australia Malori e ritiri per il Fumo andiamo a vedere la prima della Gazzetta dello Sport segna sempre Lukaku Romelu trascina e fa altri due golli il primo dopo 21 secondi sono nella squadra perfetta Conte sui prossimi acquisti non ci sono soldini ma le idee sì aspettiamo occasioni a buon mercato e poi sotto la testata Scambio Spinazzola all'Inter Politano e della Roma Eriksen Blitz pronto CR Family di spalla leggiamo Giorgina Starra Sanremo farà la conduttrice Ronaldo il tifoso e poi ancora intervista esclusiva a Fernando Alonso amo la Dakar la Formula 1 non sono vecchio e poi per il tennis Australia aria pesante Malori tra i tennisti a Melbourne quanto fumo dopo i roghi andiamo sulla prima pagina di Tutto Sport ecco l'apertura Juve il colpo e Chiellini Sarri confida Felice il recupero del capitano procede speditamente poi ancora sotto la testata Inter scatenata Cagliari travolto a San Siro Nerazzurri ai quarti di Coppa Italia e poi sul fronte mercato è fatta per lo scambio Politano Spinazzola Eriksen più vicino via libera per Giroud di spalla Dea a Firenze con Caldara e poi sorriso Napoli Valanga Lazio Milan Piontek ultima chance nella gara di oggi di Coppa Italia Toro Verdi chiede scusa e poi in basso altri richiami tennis soffocato dal fumo in Australia Milano sconfitta Istanbul per il basket di Eurolega poi pallannuoto europei settebello debutto ok con la Grecia torniamo ora sui quotidiani locali vediamo il centro serie B con il mercato del Pescara Pettinari ora si allontana Vittorini va alla Feralpi il Trapani non vuole privarsi del bomber il difensore in C a titolo definitivo oggi e domani Sebastiani a Milano per assicurare l'attaccante a Zauri e poi in basso le parole dell'ex bomber biancazzurro Federico Giampaolo ora tecnico della Recanatesin di Giampaolo un paio di ritocchi per i playoff il tecnico della Recanatese idolo della Nordin biancazzurro e protagonista in A con la Salernitana un attaccante un difensore per inseguire un posto negli spareggi promozione ma lavorare su più moduli alla lunga può essere controproducente ora la serie C Teramo mercato fermo anche Barisic verso il No dopo la punta curiale si allontana pure l'arrivo dell'esterno delle Catania la società non è intenzionata cedere Minelli ma il giocatore chiede più spazio e potrebbe partire sul fronte terzino restano caldi i nomi di Varutti Pedrelli e Tito domenica con Lavellino torna Arrigoni titolare poi per la serie D il Chieti è un cantiere tesserati 49 giocatori da agosto ad oggi la società ha cambiato tanto ma in pochi hanno convinto i risultati non arrivano nemmeno l'avvicendamento in panchina dato la scossa ora si valuta l'ingaggio del baby portiere Stasi e poi ancora per i campionati di eccellenza e promozione turno infrasettimanale dei vincenti scarica Lanciano riparti con più cattiveria i rossoneri giocano a luco con Langizia a porte chiuse Castelnuovo in casa col capistrello spoltore in cerca di riscatto per la promozione l'Aquila Bar Roseto Cappellacci serve un approccio diverso poi ancora per il basket bifemminile le Panthers graffiano puntiamo alla serie A2 servadio mamma e play ringrazio mio marito che tiene i bimbi andiamo ora a vedere le pagine di sport del messaggero prima di chiudere ecco qui Pescara Bivio per l'attacco la società attende prima di piazzare il colpo Pettinari è sempre il favorito Melchiorri è l'alternativa numero uno difensore Gabbia vicino al Benevento il giocatore di proprietà del Milan e poi ancora Sebastiani contro il mercato invernale crea solo Rogne in taglio basso volley e basket Lasieco in coppa recupera Marx poi Roseto Baie vince il premio Under 21 Serie C di calcio Teramo in tre giorni doppia sfida playoff domenica arriva l'Avellino con il mister Capuano squalificato e poi mercoledì il Catanzaro il Bonolis sarà il crocevia dello slancio per decollare in classifica Bombaggi è il match winner Tentardini unico terzino Mancino rimasto a disposizione serve un rinforzo per quel ruolo e poi per il calcio di eccellenza Lanciano Deluso in trasferta Castelnuovo con il Capistrello turno infrasettimanale derby pescarese tra Penne e Delfino e poi ancora per la promozione l'Aquila difende il primato oggi contro la Rosetana e poi per il calcio a 5 in taglio basso vincono Acqua e Sapone e Colormax Pescara ci fermiamo qui con Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente le edizioni del TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata a